Continua l'ascesa degli ex allievi di Amici 23 e, anzi, è sempre più rapida. Soprattutto per finalisti e vincitrice che, lo ricordiamo, è Sara Toscano. In questi giorni sono tutti presi tra appuntamenti, in storie e interviste e proprio questo fine settimana vedremo alcuni di loro anche a Verissimo. E poi, questo riguarda i cantanti, l'uscita degli album. Venerdì 24 maggio 2024, è uscito l'episodio di Holden, dal titolo Joseph che, tra l'altro, è il suo vero nome. L'attesa era tanta anche perché il cantautore ha lanciato il suo lavoro con una settimana in ritardo rispetto ai suoi colleghi della finale di Amici 23. Ma tornando all'episodio, ovviamente i suoi fan si sono messi immediatamente all'ascolto. E sono subito rimasti sorpresi nell'ascoltare Ossidiana. Verso la fine del brano, infatti, si sente una voce femminile che canta solo poche parole fuori e buio come l'Ossidiana seguita da una risata. Per molti appassionati di Amici 23, quella voce femminile che dice fuori e buio come l'Ossidiana la appartiene proprio a Sara Toscano. E questo in effetti spiegherebbe i ringraziamenti di Holden alla vincitrice del talent nel booklet del disco, per il supporto e l'ispirazione, George R. R. Martin, Christopher Nolan, Sara Toscano. Nessuna conferma, al momento, da parte dei diretti interessati ma chi è convinto da tempo che tra i due ex allievi ci sia un flirt segreto sono letteralmente impazziti sui social. E infatti stanno cercando anche delle correlazioni tra le parole del brano e il rapporto tra i cantanti. In molti hanno notato che il testo di Ossidiana, tra le altre cose, è simile a quello dell'ultima volta, una canzone dell'episodio di Sara Toscano. Insomma, tutti vogliono sapere se Sara e Holden sono davvero solo amici oppure qualcosa di più, nonostante entrambi abbiano più volte ribadito un rapporto di affetto e stima reciproca in questi giorni.